Il Mercatino del Libro Sato è un'iniziativa che nasce dalla rete degli studenti medi insieme al Circolo Out e della settima edizione. La nostra iniziativa nasce proprio per aiutare gli studenti e le loro famiglie che all'inizio settembre si trovano a affrontare le spese per i libri dell'anno scolastico. Per cui noi ci occupiamo di prendere i libri di seconda mano dei ragazzi che li hanno già usati e rivenderli alle famiglie che ne hanno bisogno. Siccome il nostro impegno è per tutta la città ovviamente quando siamo stati contattati dal comitato di quartiera abbiamo deciso di iniziare anche qua con il Mercatino del Libro Sato per cui ci troverete dal 3 settembre al 14 settembre anche a Villa Monica, il lunedì, il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle 17 alle 19 in maniera tale che per colori impossibilitati a scendere in via Rita e al Circolo Out c'è questa base a Villa Monica e quindi viene più vicino e più comodo per le famiglie questo scambio di libri.